Non mi chiedo se dall'assù mi segui. So già di essere il tuo reality show preferito. Sei H24 collegata con me. Ti chiedo invece come fai? Come fai a dare alle nuvole la forma del tuo viso sereno della domenica? Alle stelle la bellezza senza età dei tuoi occhi? Al vento il tuo profumo dei sabati sera? Ai giorni che passano i tuoi sorrisi del buongiorno? E alle notti che non finiscono i tuoi consigli? Ripeto come fai? O Grazie a tutti.